Ciao a tutti, noi siamo al mare a Mondello. Come potete vedere siamo messi che giriamo. Stai fermo, dove sei? Sto comandando io. Ma cosa mi stai comandando? Stai fermo che stiamo allagando qui. Ora anneghiamo, questo è l'ultimo messaggio di addio, prima di annegare. Stai fermo. Stai fermo. Ora che non tocco più. Ma che cosa tocchi tu? Stai fermo. Dove sei? Stai dietro, non mi ha chiesto. Stai fermo. Che relax ragazzi. Stai fermo. Buon lunedì a tutti. Buon lunedì. E buon cosa? Buona vacanza. Buone vacanze, perché è cominciata adesso le vacanze come noi. Mr. Bug si sta annegando da solo e dice che mi guida. Sì. Già qua non tocchiamo alcun, sono le cose scure. Fammi spostare. Magari. Fammi spostare. Ci sono scure. Sì, 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 ci sono le anche. Ci sono le cose scure dell'acqua. Ci sono le anche. Le anche. L'energia oscura nell'acqua. Le anche, ci sono le anche. Ma che bello. Vi faccio vedere la panoramica. Dove sei? Ma sei andato lì sotto? Sto andando lì sotto. Vi sta lasciando qua da sola. Ve ne rendete conto? Da sola vi sta lasciando. Allora, cominciamo a nuotare anche noi. Lo vediamo tanto bene. Noi. Ragazzi, sto facendo il video col telefono, quindi non so come si vede, però spero si veda bello. Ma qua è più fredda. Dove è più fredda? Se staggallo è più salata, semmai. Non si è più difficile. Andiamo a darlo. Vi faccio vedere la spiaggia dell'altra parte, ragazzi. Sto annegando praticamente con questo telefono che tengo con una mano. Vi faccio vedere. Quanto è più fredda? Andiamo più sotto, più sotto. Vedo così, fai. Così. Ragazzi, più metti i piedi sotto, più fredda sarà. Io ancora non tocco. Io non ti tocco. Non tocco io. Io non tocco. Io tocco. Ma dove tocchi? Io non tocco. Sto annegando. Venga, ora come tocco. Aspetta. Aspetta, fammi vedere. Andiamo? È meglio l'acqua. Oh, ci voleva un bambino. Sì, sì, sì. Ma ci arrivi? Sì che ci arrivo. Se ci arrivi, tu ci arrivo anch'io. Oh! 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 È 뭐? Grazie a tutti. Grazie a tutti ragazzi. Dopo una giornata di mare come vedete mi sono un pochino bruciata e sono esattamente le 11 e 5 minuti di sera, quindi le 23 e le 5. Noi abbiamo mangiato una cosina veloce alle 7 del pomeriggio, quindi poi facendo un altro bagno al mare ci è venuta fame tornando a casa tardi perché siamo tornati circa un'oretta fa. Il tempo della doccia e tutte cose, guardate cosa ci stiamo mangiando noi alle 11 di sera. Ve lo faccio vedere. Mozzarella con pomodorini e due carciofi. È tanto pacifico perché non abbiamo fame. Guardate il mio carciofino, il carciofino con le 11 di sera. Buonissimo. La giornata si è conclusa così. Un bacione a tutti e buonanotte.